Buonasera, buonasera e benvenuti a Portfoglio. Questa sera abbiamo molti argomenti in cui parlare, da partire da quello che è successo nell'incontro dell'Unione Europea per quanto riguarda il bilancio europeo. Parleremo anche delle parole del governatore della Banca d'Italia, Visco, nel recente incontro a Bergamo. Parleremo anche di come va la borsa, di cosa sta succedendo, quali sono gli argomenti, a partire anche da Finmeccanica. E di tutti questi argomenti parliamo con gli ospiti che ci presenta la nostra Giovanna. Buonasera Giovanna. Buonasera a tutti i telespettatori. Diamo qui in studio la buonasera a Giuseppe Attanà, presidente Assyon Forex. Buonasera. Accanto a lui abbiamo Francesco Caruso, analista e consulente finanziario www.ciclienmercati.it. Buonasera a tutti. Da questa parte salutiamo i giornalisti Enrico Marro di ilsole24ore.com. Buonasera. E Marco Sabella di Corriere Economia. Buonasera. Benissimo, cominciamo subito allora da quello che è successo appunto a livello europeo. Cominciamo da Enrico Marro, visto che è quello che ha seguito più da vicino la cosa. Noi abbiamo letto quello che ci raccontavano un po' appunto i giornali, che parlavano di questo accordo in cui sostanzialmente il bilancio europeo per la prima volta non è stato aumentato, ma è stato diminuito. Cosa è successo? Non è stato aumentato, è stato sostanzialmente un accordo di compromesso, un bilancio diciamo un po' chiuso a ribasso. È anche vero che dopo il primo round di incontri a novembre il timore era quello di non avere neanche un bilancio europeo, di andare con un esercizio provvisorio. Di fatto sono state tenute in conto le varie esigenze nazionali. L'Italia non è uscita assolutamente male, pur restando il saldo dell'Italia negativo, è positivo per 650 milioni l'anno, cioè perdiamo 650 milioni in meno l'anno tra quello che l'Italia conferisce all'Unione e quello che riceve. Però purtroppo è stato sacrificato sull'altare del compromesso proprio quello che sono gli investimenti per lo sviluppo, particolarmente importanti in un periodo difficile come questo dal punto di vista economico. Per capirci, quindi sono stati tagliati i bilanci dell'Unione europea, purtroppo i settori strategici sono quelli che hanno subito di più il taglio. Quali settori sono? Sono quelli delle reti di trasporto, le reti digitali, le reti energetiche, lì c'è stato un taglio di 10 miliardi di euro. Naturalmente sono stati salvati i fondi di coesione che sono particolarmente importanti anche per l'Italia, per il nostro mezzogiorno. Quindi dal punto di vista in qualche modo della lotta la disoccupazione si è cercato di fare naturalmente un passo avanti vista la condizione europea. Però il famoso patto per la crescita che era stato proposto anche all'interno del Consiglio europeo non è passato alla fine. Ecco, possiamo dire allora che è un bilancio molto legato al presente, cioè alla coesione sociale, quindi aiutare quelli che adesso hanno problemi. Ma manca un respiro, diciamo, non guarda al futuro perché i fondi sulla ricerca, sull'innovazione, sulle infrastrutture sono quelli che invece possono creare lavoro nei prossimi anni. Esatto, proprio così. Di fatto è un bilancio che tende a rinunciare a porre le basi per una crescita futura. E in questo probabilmente gli Stati Uniti, che però hanno un approccio completamente diverso come è noto rispetto a quello europeo, si sarebbero mossi in maniera un po' diversa. Avrebbero investito un pochino di più probabilmente su un percorso di crescita e di sviluppo a medio-lungo termine. Bene, dopo questa prima analisi su quello che è successo in Europa, io direi di guardare subito la grafica numero 3, che ci racconta un po' quello che succede a livello del nostro indice azionario, per capire anche un po' cosa è cambiato nel nostro paese anche dopo questo accordo europeo. Vediamo che sicuramente non punta verso l'alto, il nostro indice va verso il basso, quindi probabilmente non c'è grande ottimismo dopo quello che è successo. Ma a fronte di questo grafico delle azioni dell'indice azionario italiano c'è anche il numero 5, che è quello relativo al famoso spread tra BTP e Bund. Questo anche sta salendo e insieme all'indice azionario italiano può destare preoccupazioni, anche se in realtà come livello non è altissimo, perché comunque siamo sotto i 300, quindi certo non stiamo toccando i livelli che avevamo solo qualche mese fa. Caruso, secondo lei stiamo andando verso un precipizio o lentamente risaliremo? Io credo che per il momento non stiamo andando verso un precipizio, nel senso che questo movimento sia al ribasso della borsa, che peraltro diciamo non è soltanto italiano, ma riguarda anche molti altri indici europei, e anche il rialzo dello spread è abbastanza normale, abbastanza plausibile, nel senso che alla fine siamo sotto elezioni, siamo in una situazione sicuramente dove ancora le cose non sono aggiustate, quindi è una situazione ancora molto difficile, dove noi abbiamo ancora un pil negativo, quindi il problema del debito italiano è un problema che è stato sopito, ma non certo risolto. Quindi in questo senso io credo che dipenderà anche moltissimo da quello che si riuscirà a fare dopo le elezioni, quindi che tipo di accordo ci sarà, se ci sarà un accordo, se ci sarà governabilità, e soprattutto anche quale sarà il voto, se sarà un voto chiaro, se invece sarà un voto che rimanderà una seconda volta alle urne. Tutto questo secondo me è un po' il fulcro, è il punto chiave per capire come andrà il mercato. Io vorrei anche dire che è importante capire che il mercato italiano non è una storia a sé stante, ma è comunque collegato all'andamento dei mercati internazionali. Soprattutto di quello europeo, perché rispetto a quello americano vediamo che ci sono già delle differenze, ma questo tra America e Europa, ma ne parliamo dopo. Restiamo in Europa, restiamo anche nel nostro paese, e a Sabella volevo fare una domanda. In questo momento, come diceva giustamente Caruso, i mercati sono un po' nervosi in vista delle elezioni, perché ovviamente i mercati, si sa, vogliono la stabilità, quindi qualunque cosa che va verso l'instabilità può nervosirli. Secondo lei il fatto che siano così nervosi vuol dire che ci aspetta un risultato elettorale un po' strano? In un certo senso i mercati lo temono e in parte lo prevedono, perché l'aumento della volatilità è proprio il prezzo che viene pagato per questo aumento dell'incertezza. Un prezzo che si può addirittura quantificare, perché per esempio le opzioni che vengono prezzate in base alla volatilità hanno avuto un forte aumento di costo per chi struttura i prodotti derivati o per chi ne fa un uso difensivo e di hedging. Per cui, sì, c'è un prezzo della volatilità dovuto a questa incertezza. C'è anche da dire che erano circa 7-8 mesi che la volatilità sui mercati stava scendendo costantemente e a metà gennaio aveva raggiunto dei livelli effettivamente molto bassi sia sul reddito fisso che sul mercato azionario. Per cui un po' di ripresa della volatilità è anche fisiologica. Ci sono dei cicli fisiologici di bassa volatilità e di più alta volatilità. Questo attuale non è un ciclo particolarmente dannoso e particolarmente preoccupante. È come in una scala graduata di allarmi che va, non so, dal giallo all'arancione al rosso. Se ci fosse un segnale, ma io direi tra giallo e arancione, siamo ben lontani dal rosso per il momento. Ecco, però dall'altro canto c'è anche una nota positiva e qui mi rivolgo a Tanà. Il fatto che il Tesoro comunque torni a mettere dei BTP trentennali. È una cosa che va smesso di fare appunto nel maggio 2011. Lo possiamo definire un buon segno? È una scelta strategica molto importante per il Tesoro, soprattutto nel contesto di un debito come quello italiano, di ampie dimensioni, laddove riuscire a scadenziare più a lungo gli impegni dà molto respiro. Noi anche in un anno come questo, laddove si è lavorato molto bene per ridurre le scadenze di tutto l'anno, avremo mesi che dovranno essere fatte emissioni per 30 o 40 miliardi. Quindi, mediamente, quelli sono gli impegni dello Stato italiano. Molti di questi debiti che scadono sono ancora in mano di investitori stranieri e da qui penso la volatilità, soprattutto in momenti come questi, che contraddistingue il nostro mercato, perché ovviamente dover essere sotto pressione costantemente non agevola sicuramente la gestione del nostro debito. Quindi il Tesoro ha lavorato e continua a lavorare benissimo, cercando di spostare per quanto possibile più in là le scadenze, anche con costi singolarmente presi, superiori, cioè sulle singole emissioni. Sarebbe facile poter emettere tutto a breve e pagare molto di meno, ma sarebbe altamente imprudente, sarebbe una gestione non sana, quindi è ottima la strategia, ottimo il lavoro che sta facendo il Tesoro in questo senso. Siamo in una fase di tassi e brevi a minimi storici, quindi questo è un momento dove chiunque può emettere sta cercando di emettere, e quindi che siano corporate, stati, eccetera, eccetera, io credo che sia un momento dove proprio per questo, perché siamo in una situazione di rallentamento, quindi non ci sono particolari pendenze sulla curva dei tassi, cioè voglio dire, traduco, non è che i tassi a lungo rendano moltissimo di più di quelli a breve, è chiaro che c'è un vantaggio a emettere, perché bisogna guardare un po' lontano e cercare di capire che effettivamente questi tassi di interesse a breve così non è che potranno durare all'infinito, per forza. Implicitamente, ci sto dicendo che comunque dal punto di vista del risparmiatore non conviene tanto comprare a lungo termine, è un po' anti-italiano, come sto dicendo, però... No, beh, ma non è che dobbiamo vendere soltanto i BTP. Adesso compare un B30 annale, non... Può avere un suo senso, però ha un suo senso in una gestione complessiva del portafoglio. Voglio comunque avere una cosa in quale... Quasi tutte le banche d'affari e gli asset manager internazionali sono sovrappesati, quindi investono più della media, diciamo, fisiologica di portafoglio, proprio sulla parte a lungo termine, quindi almeno dieci anni, della curva dei rendimenti italiana e spagnola, proprio perché c'è l'aspettativa e l'ipotesi razionale che gli spread possano scendere significativamente. Quindi diventare più conveniente... Una volta, cioè, può ancora ovviamente esplodere nuovamente una crisi, ma c'è un tappo alla crisi che è dato soprattutto dalle elezioni tedesche di settembre. Cioè, fino a settembre non succederà niente. Dopo settembre i problemi strutturali probabilmente verranno affrontati e c'è l'aspettativa che verranno affrontati in un modo ragionevolmente definitivo, per cui gli investitori internazionali si stanno posizionando sulla parte più lunga della curva, proprio nell'ipotesi che questo spread, che adesso è ritornato su 280-290, possa scendere senza dare degli obiettivi molto e quindi portando a un guadagno molto forte sulla parte a lunga della curva. Non dimentichiamo che... Diciamo che gli investitori esteri sono ottimisti, diciamo. Non dimentichiamo che nel 2012, una cosa che ha fatto il Corriere Economia, una classifica dei rendimenti delle attività finanziarie, nel 2012 l'investimento che ha reso di più è stato l'indice dei BTP che ha portato il 17,90%. Quindi quando l'Italia sembrava sull'orlo del collasso a ottobre del 2011 e anche in altri momenti, chi avesse comprato in quei momenti, aderendo per esempio a iniziative come il BTP Day che era stato lanciato dal Corriere della Sera, ha guadagnato quasi il 20% in un anno su questo primo parziale e cospicuo restringimento degli spread. Se, come pensano i grandi investitori internazionali, ci sarà un ulteriore restringimento, è possibile, è probabile, che anche su questa parte più lunga ci possano essere ulteriori guadagni. Non così forti, però oltretanto importanti. Potremmo magari dire una cosa importante. Niente al titolo solo, poi andiamo in pubblicità, così poi le ho dato tutto il tempo. Il titolo di quello che vuol dire? Vorrei parlare dei tassi a lungo, ma anche della necessità degli investitori in questo momento di investire nei tassi a lungo. Perfetto, dopo la pubblicità indaghiamo su quello che ci tratta Caruso. E eccoci in studio, riprendiamo subito da Francesco Caruso. Voleva intervenire sul discorso dei tassi. Volevo precisare un punto che secondo me è abbastanza importante che gli investitori capiscano, cioè che il fatto di andare sulla parte lunga della curva, cioè sui BTP, obbligazioni a lungo periodo, è una necessità oltre che una scelta tattica o strategica. Perché? Perché è l'unica parte che genera dei flussi cedolari di un certo tipo ormai. Perché se uno si compra le obbligazioni a uno, due, tre anni di flusso cedolare a poco o nulla. Lì invece ancora un pochettino ce n'è. E questo ovviamente a chi fa gola? Fa gola soprattutto a chi ha bisogno di questo flusso cedolare, cioè assicurazioni, fondi pensione e quant'altro. E quindi questo tipo di scelta è una scelta che in parte può essere una scelta voluta, in parte è una scelta obbligata. E bisogna pensare che i tassi a breve potranno rimanere così bassi per un certo periodo, ma non per sempre. E quando cominceranno a salire, chi si troverà in portafoglio? La parte più lunga della curva sarà chi soffrirà di più. Bene, cioè bene, insomma. Ma è la verità, cioè è la semplice verità data dai numeri, non è un'opinione o un voler cercare di... Assolutamente. Dopo aver parlato di obbligazioni, torniamo un attimo indietro e parliamo, anzi andiamo avanti, parliamo di azioni, ma torniamo indietro nel senso che riprendiamo un po' le parole che ha detto appunto nello scorso weekend il governatore della Banca d'Italia, Visco, che appunto è intervenuto al 19esimo congresso a Seamforex e dicendo appunto, io cito testuali parole, l'Italia non si è ancora lasciata alle spalle gli effetti della crisi finanziaria e delle due recessioni che l'hanno accompagnata. La nuova flessione dell'attività economica, iniziata a metà del 2011, ha annullato il parziale recupero registrato dopo il 2009. E poi ha concluso il discorso delle previsioni, diciamo dicendo che la caduta dell'attività potrebbe arrestarsi nel corso del secondo semestre del 2013 con un ritorno a ritmi di crescita modesti e con margini di incertezza elevati. Insomma, non c'è di che festeggiare, diciamo, cioè anche il governatore dice sì, ci sarà forse una ripresa nel secondo semestre del 2013 ma potrebbe anche avere ritmi di crescita modesti. Attana, anche lei condivide l'opinione del governatore? Beh, è facile condividere le opinioni del governatore ma a prescindere dalla sua autorevolezza è anche un fatto abbastanza concreto che l'Italia è uno dei paesi, diciamo, non della core Europe che hanno incontrato maggiori difficoltà ed è uno dei paesi che tarda a crescere. Quindi se i primi segnali di ripresa a livello internazionale si sono iniziati a vedere in alcuni paesi emergenti alcuni segnali vi sono negli Stati Uniti ed i primi in Europa ancora sono molto timidi solo nei paesi core d'Europa quindi in Germania e Francia noi ancora non li abbiamo quindi questa previsione è molto realistica, molto concreta. Non li abbiamo anche perché e torno forse a un concetto abbastanza contraddittorio che riprende quello del bilancio dell'Unione Europea tutti sanno qual è la ricetta sia in Italia sia in Europa cioè occorrerebbe in una congiuntura recessiva aumentare la spesa pubblica e sostenere gli investimenti e su questo penso che sono abbastanza tutti d'accordo in certi momenti poi la contraddizione sta nel fatto che siamo in un anno di elezioni importanti adesso in Italia che comunque al suo conto poi è stato più volte richiamato all'elezione tedesca e quindi c'è un timore anche per quello che è stato fatto in questo senso nei confronti di Grecia nei confronti di Spagna cioè il contraddirsi adesso dopo aver fatto soffrire certi paesi e l'Italia anche in buona misura poter sbilanciarsi e dire no da adesso in poi cambiamo rotta ora dove sta l'equilibrio è difficile i concetti e sono corretti probabilmente entrambe è difficile applicarli entrambe nello stesso momento perché o si rilancia e si espande la spesa pubblica di nuovo qui poi potrebbero venire dei timori da chi la governa poi rimarrà governabile o è meglio mettere prima un pochettino a posto i conti prima aver la fiducia che i nostri amministratori siano amministratori lungimiranti affidabili per poterli farli indebitare di nuovo sapranno amministrare meglio di come è successo in passato il debito quindi la contraddizione c'è è uno dei motivi per cui noi tardiamo a crescere rispetto ad altri paesi e speriamo di farcela il momento elettorale non sarà del tutto secondario per noi certo perché gli italiani sono già stufi i greci figuriamoci sono già stufi di tagliare di dover stringere la cinghia e così via e hanno voglia che le cose si rimettono in moto sì e su questo diciamo abbiamo ben chiaro qual è la posizione tedesca ce l'ha ricordato ieri lunedì e lo stesso numero uno della Bundesbank Weidmann che ha detto l'euro è assolutamente correttamente valutato anche a questi livelli che l'euro ieri ha fatto un balzo sostanzialmente su queste parole rilevante e poi ha ricordato come lo stampare danaro sia sempre sbagliato facendo l'esempio proprio dell'Italia dell'Italia degli anni 70 quando si è stampato danaro e si è a detta di Weidmann aumentato a dismisura proprio il debito pubblico quindi sostanzialmente la ricetta tedesca e di conseguenza quella europea mi sembra che vada in una direzione completamente diversa invece il mondo americano che va in una direzione a sti politiche come sappiamo particolarmente spazio la regia di mandare la grafica numero due visto che stiamo parlando di cambi e di euro-dollaro a questo punto diamo un'occhiata anche a come appunto l'euro si sta rinforzando vedete che sale quindi vuol dire che si sta rinforzando è sceso ultimamente dopo le parole di Draghi in cui Draghi ha diciamo minacciato di incominciare anche a stampare lui euro però diciamo che ancora l'euro è abbastanza forte e diversi analisti pensano che ancora si rinforzerà un po' o sbaglio Caruso ma allora io ho fatto una statistica che secondo me dice abbastanza cose perché poi alla fine i numeri sono aridi ma dicono la verità negli ultimi nove anni quindi dal 2003 ad adesso l'euro è rimasto per l'80% del tempo tra 1,20 e 1,40 quindi l'euro a 1,35 a 1,30 e così via è fondamentalmente un non evento nel senso che è quello che è sempre successo negli ultimi nove anni al di là di rarissime eccezioni in cui l'euro si è rafforzato ed è andato sopra all'1,40 quindi in questo momento direi che variazioni di questa portata soprattutto per chi conosce i mercati dei cambi sono variazioni minime che non hanno nessun tipo di impatto particolare sulle bilance commerciali e su altro quindi tradotto per un investitore quindi se l'euro dovesse elevare 1,40 lei giocherebbe sul fatto che scende io metterei sicuramente una piccola quota di dollari in portafoglia assolutamente sì e Marro volete vedere ancora sugli Stati Uniti se l'ho interrotta se no andiamo avanti no 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 semplicemente a commento di quello che diceva Caruso dobbiamo anche ricordarci che un anno fa un pochino più di un anno fa in realtà non si sapeva bene se sarebbe sopravvissuto l'euro quindi da una parte c'è chi dice attenzione che l'euro è sopravvalutato ci sono danni all'export eccetera ma questo significa che in qualche modo si è varcato il rubicone a Davos nell'edizione dello scorso anno tutti gli analisti si interrogavano sostanzialmente su quali potevano essere le conseguenze di un possibile sfaldamento l'euro nordico l'euro dei paesi del sud quest'anno non ci sono stati particolari dubbi sulla tenuta della moneta unica chiaramente la contropartita è questa il fatto che la moneta unica si rafforza anche perché sappiamo bene che è in corso una vera e propria guerra valutaria Sabella su questo anche lei lei coincorda per esempio con la visione è più d'accordo con la visione della banca tedesca diciamo di lasciare le cose come stanno perché dobbiamo giocare sulla competitività quindi migliorare noi stessi invece che giocare sui cambi mi pare proprio su solo 24 ore una interessante statistica su quanto le diverse economie dell'eurozona possono sopportare l'apprezzamento del cambio rispetto ai valori di produzione e a questo livello di 1,35 circa l'economia tedesca potrebbe sopportare senza subire danni particolari un ulteriore apprezzamento del 14% mentre per economie più deboli come Francia Francia mi pare che il valore di equilibrio indicato fosse 1,26 quindi sensibilmente più basso e per l'Italia addirittura 1,19 quindi ancora una volta si vede come parliamo di io fermo perché hai detto 1,35 1,35 per il valore attuale 14% in più vuol dire circa 1,42 1,52 ecco giusto perché quindi se il cambio euro-dollaro arrivasse a 1,50 per la Germania sarebbe sostanzialmente indifferente per l'Italia e per la Francia è già molto caro adesso perché per la Francia il tasso di invarianza rispetto ai costi di produzione sarebbe 1,26 per l'Italia 1,19 e per molti altri paesi periferici dell'euro uguale e questo vuol dire che di nuovo che l'eurozona è più una definizione un'etichetta che non una sostanza purtroppo quindi le politiche economiche e qui torniamo al discorso del bilancio diventano fondamentali perché se si va verso un federalismo europeo e la costruzione di uno stato federale effettivamente federale sul modello di quello che fu costruito negli Stati Uniti ai primi dell'Ottocento e quindi con una centralizzazione delle politiche economiche monetarie eccetera e anche delle politiche di sviluppo dovranno tenere conto di queste differenze e che alla lunga sono insostenibili per i paesi periferici dell'euro quindi anche i cosiddetti movimenti politici populistici che sono populistici e che risolvono i problemi con l'accetta usciamo dall'euro rompiamo non paghiamo Berlino insomma le cose più strane che si ascoltano in questa campagna elettorale hanno purtroppo dico purtroppo un loro fondo di verità perché è giusta l'analisi del problema ma è sbagliata la soluzione che è necessariamente complessa e semplificando si arriva è bene dirle queste cose perché siamo sotto elezioni perché tra 15 giorni votiamo perché dal nostro voto dipendono le soluzioni che verranno trovate quindi i problemi che indicano sono giusti le soluzioni non voglio fare nomi di partiti politici ma li conosciamo le soluzioni più brutali sono anche le più dannose le soluzioni più difficili sono le più complesse e purtroppo bisogna cercare le soluzioni complesse se si vogliono risolvere davvero i problemi che sono strutturali e di lungo periodo certo di sicuro diciamo che è probabile che nei prossimi mesi ci saranno ancora grandi polemiche all'interno della Banca Centrale Europea come ci sono stati prima perché a livello politico ci saranno degli scontri violentissimi nella Germania che sono i fatti gli scontri però dico anche la Banca Centrale Europea se prima c'era il litigio diciamo tra la banca tedesca che non voleva che Draghi intervenisse per il discorso della liquidità ma già oggi tra Francia e Germania c'è un discorso fortissimo sul proprio scambio questo è il prossimo litigio dell'1,55 dell'1,26 i francesi giustamente non lo sopportano questo sarà il tema dei prossimi litigi dei prossimi mesi della Banca Centrale Europea qua parliamo di un federalismo alto non parliamo del federalismo d'austeria parliamo la parola federalismo una parola nobilissima che purtroppo nel dibattito politico italiano e qua mi sto alterando perché ci credo nel federalismo è diventato un dibattito d'austeria ma quando si parla di federalismo vero si fanno delle politiche vere delle trattative vere e allora tutti ci guadagnano nel federalismo d'austeria purtroppo tutti ci perdono anche quelli che credono di guadagnarci ecco questa è un po' la realtà benissimo la fermo qui prendiamo pubblicità e poi riprendiamo e andiamo avanti con con la borsa italiana e quello che ha detto Visco a recente convegno di Asos Forex benissimo e riprendiamo riprendiamo dalle cose nostre italiane e torniamo appunto sempre allo scorso weekend all'Asion Forex dove c'era appunto Capadrone di Casa era il nostro Giuseppe Attarà che ha ascoltato appunto la relazione di Visco e in cui sul tema di Monte Paschi Siena ha detto fondamentalmente diciamo due cose da un lato ha detto che l'intervento della per il lui non lo chiama salvataggio lo chiama prestito ha sottolineato due volte il fatto che è un prestito ma non è un salvataggio di Monte Paschi Siena trattasi appunto di prestito anche abbastanza caro ma comunque sia le ricapitalizzazioni pubbliche di banche in Italia in realtà hanno fatto sì che si spendesse solo 0,3% del PIL che è molto meno rispetto a quello che abbiamo speso che hanno speso in Europa la Germania con 1,8% la Spagna con 2% il Belgio con 4,3% e così via quindi da un lato Visco dice non stiamo salvando le banche a costi così esorbitanti come hanno fatto altri dall'altro però ha proposto anche ha chiesto anche di avere più poteri tanto da appunto da proporre che l'autorità di vigilanza possa quando ritenga necessario possa opporsi la nomina di esponente aziendale o addirittura rimuoverli dall'incarico che è una novità assoluta in Italia a Tanale cosa ne pensa hai queste due idee di Visco anzitutto penso che l'intervento del governatore della Banca d'Italia su Monte Paschi non fosse atteso da nessuno e quindi bene ha fatto in una concezione di comunicazione trasparente ad affrontare questo problema perché non c'è nulla da nascondere né a livello italiano e tantomeno insieme a Banca d'Italia quello che ho capito io dell'intervento francamente del governatore è che come ha detto lei c'è un problema di dimensioni italiane ed europee non siamo arrivati al 40% del PIL dell'Irlanda tanto per intenderci qui noi siamo allo 0,3 ha fatto anche accenno giusto per dare le dimensioni al recentissimo salvataggio delle banche spagnole sono stati destinati 100 miliardi di cui 41 già erogati mentre qui stiamo parlando di un prestito di 4 miliardi quindi le dimensioni rispetto a quello che è il problema che è serio che è grave francamente si capisce che sono molto strumentalizzate in questo periodo e penso che tutti lo possano capire altra cosa importante è che questo non è un segno di malessere per il sistema bancario italiano è una situazione grave gravissima se vogliamo sotto il problema dell'etica e grave sotto il problema patrimoniale ma è una situazione e non va ripeto strumentalizzata nell'ambito di un sistema bancario che è stato il più sano a livello internazionale per quanto riguarda l'uscita dalla crisi finanziaria è stato il sistema che veramente non ha preso praticamente nulla quindi questi per me sono i concetti base poi non penso anzi non ha sottovalutato quella che è la gravità degli episodi delle accaduti che sono in corso di accertamento ma che sicuramente intuitivamente sono molto gravi che vanno portati fino in fondo e di qui l'accenno ai poteri della vigilanza e quindi all'importanza anche in futuro in prospettiva di una vigilanza unica europea con molti più poteri di quelle attuali che hanno i governi nazionali che possa effettivamente incidere su comportamenti malsani perché è evidente che la Banca d'Italia non è stata tenera a suo tempo quando ha iniziato le ispezioni sul gruppo Montepaschi Siena evidentemente non ha potuto andare più in là di tanto non ha potuto intervenire tempestivamente sui vertici e questa è una situazione che attraverso questi poteri ed è abbastanza banale dirlo sarebbe probabilmente così stata gestita in un modo migliore Caruso io appunto ho ascoltato le parole del governatore Visco ovviamente quando Banca Italia dice che vuole poter rimuovere amministratori di una banca che è privata c'è sempre un minimo di perplessità perché la banca però è privata come fa non ha un senso diciamo dal punto di vista di principio sbagliato che lo Stato intervenga all'interno di una cosa privata però è anche vero che queste banche anche se sono private in realtà poi se vanno male alla fine è lo Stato che deve aiutarle quindi c'è questo c'è questo doppio doppia doppia questione da valutare lei che giudizio si è fatto diciamo a parte del Monte Paschi Siena ma anche dei recenti vicissitudini di Finmeccanica gli scandali anche degli anni scorsi che hanno toccato o anche qualche settimana fa da Enis Aipem piuttosto non voglio citarli tutti però diciamo che un quarto un quinto della capitalizzazione di borsa ha in questo momento problemi coinvolte con la magistratura è un problema secondo lei più di regole o più di etica del popolo italiano di classe dirigente italiana io credo che è un tema delicatissimo da toccare e non conoscendo fino in fondo le situazioni credo che vada veramente preso con le molle soltanto con un discorso diciamo così di fondo in questo momento credo che ci siano due fattori che in questo momento stanno convergendo uno è un fattore se vogliamo storico e cioè una forma di ritorno a un'etica generale che probabilmente mancava da molto tempo e quindi stiamo ritornando c'è una specie di tendenza verso questo tipo di ritorno che è un fattore secondo me abbastanza storico che non coinvolge solo l'Italia ma in generale molti altri paesi che secondo me è ancora un work in progress cioè un lavoro che deve ancora andare avanti e un altro secondo me è abbastanza evidente il fatto che siamo in un momento di grandissima confusione perché questo è un momento di grandissima confusione politica economica elettorale e quindi è il momento classico topico dove bisogna far emergere queste situazioni perché voglio dire sono funzionali ora una parte ora l'altra parte direi niente di nuovo sotto il sole sinceramente io non so non so perché ripeto non posso sapere quante di queste cose fossero almeno in modo embrionale già note e si sia scelto un determinato momento per farle venire fuori questo fa parte di cose che a noi comuni mortali non è dato sapere e per curiosità su Finmeccanica lei la valuta come una una azienda sana a parte diciamo questi casi cioè il presidente che ha a che fare con la magistratura e tutto ma come azienda è sana è un'azienda su cui si sentirebbe ancora di investire ma fermo restando che investire su un singolo titolo è sempre una cosa da fare con porzioni risicate del proprio portafoglio perché se no entriamo nel campo diverso dall'investimento io penso che Finmeccanica se uno calcola il valore la calcola come somma del valore delle singole componenti valga molto di più di quello che in questo momento è capitalizzata in borsa però è un'opinione e sempre allora restiamo appunto sulle cose italiane e volevo dire un po' le ultime allora io poi avevo anche un altro commento sempre su quello che ha detto Visco sullo discorso della rimozione dall'incarico secondo voi il problema del Monte Paschi Siena o di Scandari che sono venuti è una questione di mancanza di poteri di Banca d'Italia o c'è stata qualche lacuna anche dal punto di vista di Banca d'Italia se è vero che venivano occultati i documenti la Banca d'Italia ha fatto quello che ha potuto probabilmente un potere di intervento maggiore anche di rimozione dei manager e dei vertici aziendali sarebbe un ulteriore deterrente prima che ancora una soluzione per evitare questo tipo di situazioni naturalmente però ormai si sta andando sempre di più verso un sistema di vigilanza unica europea per cui anche i poteri ispettivi di vigilanza sulle banche che saranno in ogni caso comunque delegati presumibilmente alle singole banche centrali ex nazionali quando il sistema di vigilanza unica prenderà corpo manterrà una funzione centrale e nevralgica alla Banca d'Italia per cui sì questa possibilità io la vedrei più come deterrente che come effettiva soluzione però sarebbe da prendere in considerazione penso è un potere da dargli in mano che userà poco la Banca d'Italia però insomma le banche centrali di solito sussurrano sbattono gli occhi i mercati si regolano cioè l'euro è sceso da 1,36 1,34 solo perché Draghi ha detto che a questi livelli di quotazione dell'euro la Banca centrale europea potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di aumentare i tassi di interesse rispetto a solo con formule ellittiche un po' gesuitiche i mercati capiscono subito cosa vuol dire e si regolano in conseguenza in precedenza era salito proprio perché sempre lo stesso Draghi aveva detto non pensiamo di toccare i tassi di interesse e la pomma era regolarmente la minaccia ha un senso se tu hai strumenti per realizzarla poi a un certo punto un management che assolutamente si è rivelato delinquente insomma come quello della Banca Popolare di Milano se ci fosse stato un potere di intervento anche ispettivo più forte della Banca Centrale della Banca d'Italia ci fossero ipotizzo dei funzionari dotati di poteri particolarmente coercitivi già inviare il fatto stesso di inviare un'ispezione di un certo tipo diciamo così di grado A genera un tale timore che produce anche degli effetti di autogovernance dell'istituto che viene ispezionato per cui aumentare i poteri ma direi più in logica di deterrenza che non di polizia ecco questo è possibile una considerazione a riguardo visto che no no ma riprendo sempre delle parole del governatore proprio nella chiusura della sua relazione laddove è lui stesso che dice che le regole sono necessarie e importantissime a sostegno appunto anche di una regolamentazione europea di maggiori poteri a Banca d'Italia ma le regole non risolvono certo problemi tantomeno problemi laddove ci sia della malafede una scarsa etica e questo lo aggiungo io non lo dice certo il governatore una cultura ormai abbastanza diffusa nel nostro paese che non è la più adatta per affrontare un risanamento importante come quello nostro perché a livello generale si è generata negli ultimi decenni una cultura che poi da giustifica e legittima certe campagne elettorali perché certe campagne elettorali sono mirate alla cultura che abbiamo noi quindi a una cultura che alla quale importa più o meno se una cosa sia giusta se una cosa è stata fatta ieri e oggi viene smentita ma la cultura è quella del immediato del giorno per giorno che si diceva prima vale per i partiti e poi vale anche per una mentalità che ci auguriamo cambi in pubblicità poi la ripartiamo da lei ben tornati torniamo subito la parola a Sabella perché voleva appunto intervenire sul discorso dell'etica un impatto più di breve periodo e però le regole ben applicate nel lungo periodo danno i loro frutti per cui io sono convinto che esista tutto sommato un primato delle regole rispetto a quello della cultura perché la natura umana è quello che è non possiamo entrarci dentro però regolare la natura umana con dei sistemi di pesi e contrapesi e di incentivi e disincentivi è poi quello che permette al legislatore intelligente di dirigere la nave un po' come si dirige una barca a vela con i venti è indifferente che il vento sia di maestrale o che so che sia un libeccio se devo arrivare in un certo punto orienterò le vele in un modo diverso per sfruttare le forze che ho un po' lo stesso è questo per cui il problema di individuare le regole corrette per ottenere un buon funzionamento del sistema secondo me è più importante e soprattutto evita di cadere in discorsi di tipo moralistico che purtroppo non portano da nessuna parte sì il politico tale ruba l'altro ruba anche facciamo in modo di creare un sistema per cui chiunque si trovi a governare in quel momento non sia in condizione di rubare o sia fortemente disincentivato a farlo oppure venga scoperto più facilmente e questo è il livello su cui si può agire che nel lungo periodo genererà anche un'etica superiore come è per esempio quella dei paesi nordici o dei paesi del centro Europa però ci si arriva lentamente è importante anche la responsabilità sì ma ci si arriva passando perché anche il discorso di visco dei poteri è vero cioè diamo poteri a qualcuno dopodiché questa è la responsabilità totale di quello che succede non succede perché in effetti se diamo metà poteri a qualcuno però l'importante è trovare delle regole intelligenti e ben calibrate che possano generare piano piano un cambiamento culturale degli italiani che non avverrà da un anno all'altro neanche da un decennio all'altro presumibilmente però è anche importante mi viene in mente prima pensando un esempio storico un po' lontano c'era lo stato polacco è stato sottoposto a tre smembramenti dal 600 al 700 fino a scomparire ed veniva smembrato tra la Russia la Germania la Prussia allora e l'Austria questo perché il regno della Polonia aveva uno stanno sistema elettivo del re di Polonia basato proprio appunto un po' come nel Sacro Romano Impero su principi elettori che di volta in volta dovevano scegliere un primus inter pares che però non decideva niente il risultato è stato lo smembramento e una decadenza storica della Polonia per 200 anni l'Italia in fondo con la famosa prima e anche seconda repubblica ha conosciuto un processo analogo cioè delle regole istituzionali che non si sono rivelate all'altezza dei problemi hanno determinato un depauperamento della cultura italiana e della politica italiana che ci ha portato agli orrori di oggi e dell'ultimo ventennio come si esce da questi orrori e si ne esce lavorando su regole intelligenti e ricreando piano piano una cultura di livello più elevato se facciamo un discorso moralistico sui singoli partiti o sui singoli personaggi grotteschi che hanno popolato la politica italiana in questi vent'anni purtroppo non andiamo avanti e invece dobbiamo direi comunque che tante regole le abbiamo già e non vengono applicate bene e se non vengono applicate bene ritorno mi permetto di ritornare ho un problema di tutto però un problema filosofico tra l'altro mi fa pensare tra l'altro io ho ascoltato appunto a Tanà proprio a Bergamo dove ci ha raccontato che nel 2008 2009 non mi ricordo aveva segnalato aveva anticipato lo scandalo Libor o Libor come si voglia chiamare aveva sostanzialmente telefonato dicendo guarda che c'è qualcosa che non va qui i tassi ho scritto una lettera sto semplificando tanto per dire cioè li avevo avvisati e da Londra da Londra sostanzialmente grazie ma va benissimo qui come dire pensate agli affari vostri e invece e questo è un altro segno non siamo solo noi italiani per fortuna non siamo solo noi anche perché la finanza anglosassone qualche dimostra qualche vereno ce l'ha dato c'è un primato dell'homo latinus o dell'homo anglosaxonis significa che ci sono dei sistemi che funzionano e dei sistemi che non funzionano dobbiamo fare in modo che funzionano forse la differenza è che a Londra le hanno risposto forse in Italia non avrebbero neanche risposto questo è più questo è diverso la Londra ha meno la forma però loro hanno avuto lo scandalo Londra in Italia no certo infatti questo va detto che a meno da manipolavano in Italia hanno fatto altre cose ma non quella insomma va bene andiamo facciamo un rapidissimo facciamo una cosa guardiamo ancora ultimo grafico tanto per chiudere il numero uno che è quello relativo al Dow Jones e vediamo qui chi do a caruso ma gli Stati Uniti dopo il fiscal cliff dopo il terrore che non riuscissero a chiudere il bilancio e tutto in realtà hanno rinviato tutto a fine febbraio in realtà sembra che tutto vada bene e mi sembra che c'è una grossa differenza anche rispetto al nostro indice comunque gli indici europei cioè gli Stati Uniti vanno a leggere l'indice che di solito appunto è un qualcosa che prefigura quello che succederà nell'economia gli Stati Uniti c'è da essere ottimisti ma in realtà non è così semplice non è così semplice la situazione in quanto intanto bisogna diciamo così depurare l'indice dall'effetto cambio se noi vediamo un indice Dow Jones ad esempio uno Standard & Poor's espresso in euro non è molto distante anzi da un DAX tedesco quindi chiaramente è molto diverso da un indice da un Eurostock 50 o da un indice italiano o da un indice francese però non è molto distante dal DAX tedesco io devo dire che quello che mi ha stupito negli ultimi due mesi è stata una sostanziale incoerenza dei mercati rispetto ai dati che uscivano nel senso che il paradosso è che in Europa si è visto un leggero miglioramento della fiducia dei consumatori e una leggera frenata nella disoccupazione negli Stati Uniti si è avuto esattamente il segnale opposto cioè un leggero peggioramento della fiducia dei consumatori e dell'occupazione quindi un leggerissimo aumento della disoccupazione ma i mercati hanno reagito in una maniera sostanzialmente diversa ora è chiaro anche che in questo momento se noi guardiamo al grafico dell'economia mondiale nel suo complesso è un elettroencefalogramma quasi piatto perché le aree continuano a muoversi tra di loro ma non hanno una coerenza di andamento e quindi ancora è una situazione dove non si può esprimere diciamo un giudizio complessivo va bene su questo chiudiamo Giovanna facciamo i saluti velocissimi velocissimi mi permetto solo di dire spero che cambi il vento avvicinandomi alla metafora del dottor Sobella della barca vera salutiamo diamo una buonanotte a Giuseppe Attanà presidente di Asion Forex buonanotte salutiamo Francesco Caruso analista e consulente finanziario www.cicliamercati.it buonanotte da questa parte buonanotte a Enrico Marro ilsole24ore.com buonanotte e a Marco Sabella di Corriere Economia buonanotte naturalmente allora anche vi do buonanotte anch'io buon vento buona barca buon mare se riuscite ad andarci ci vediamo la settimana prossima buonanotte 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 Grazie a tutti.